è un buon raccolto che grande zucca farò la zuppa di zucca per tutti non posso prendo un rastrello questo renderà felici ragazzi ma non capisco ma dov'è la zucca forse l'ha presa coquerel glielo chiederò oh che male qual è il problema perché stai piangendo ho calpestato il rastrello perché hai preso la mia zucca io non ho preso niente ho il mio occhio che cos'era quello il rastrello ovviamente qualcuno lo fa apposta oeee fa male chi ha messo lì quella pezzo di cosa li sono scivolata ah ecco chi era lunetta se ti prendo non ha amici quindi non sa come attirare l'attenzione chiamerò la dottoressa qui qui dottoressa vi curo tutti a turno bene 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 l'occhio deve essere coperto con una benda attento sembri un pirata qual è il problema mi fa male il naso va meglio si grazie è io dottoressa per favore guardami dove ti fa male non riesco ad alzarmi mi fa male la gamba questa si deve essere curata oh così bene devo metterti una benda prova ad alzarti mucca oh non fa male grazie dottoressa guarisci presto a